Tinù! 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 Eh, perché se mangio io te li guardavo a Tinù. Allora, palla a centro e arrivi, eh. Una sola, la risultata. Di vecchietti, niente. Niente di vecchietti. Allora, palla a centro e arrivi. Io sono qui, dai, ho terminato. Ma no, ho detto tutte le volte, ho detto, non vi permettete di iniziare la partita prima che arrivo io. Anche voi ti lanciate nella portata. È lavoro, eh. No, non mi lavoro. E poi io. Dio quello che gioca. Che? Allora, ho visto Marco. Oggi Marco l'ha fatto sui appennenti. Ciao, ciao. Officerulu. Ciao, ciao.